L'ultima sfida del 2018, Salernitana Pescara, stadio Rechi, spesso in passato teatro di scontri che hanno infiammato le due tifoserie. Ancora nitido nella mente degli sportivi, difende Biancazzurra il blitz del 13 gennaio 1996, campionato di Serie B. Gran destro di Michele Gelsi, soprattutto la solo pozzesco di Federico Giampaolo. Avversari saltati come Birilli, tiro rispetta di Chimenti, tapin di Dario Di Giannatale e correzione sulla linea di Re Federico. Di certo non nuovo a simili prudezze. Una analoga se non più bella col Palermo l'anno successivo nelle immagini, allenatore Deglio Rossi, serpentina stile Roberto Baggio, mondiali 90. Un tuffo nel passato, doveroso e sempre emozionante. Il presente, Salernitana con Gregucci in panchina da due partite dopo le dimissioni di Stefano Colantuono. Terzo mandato alla guida de Granata per l'ex difensore della Lazio che ha restituito solidità alla difesa. Quattro punti in 180 minuti, vittoria con la Foggia e pari esterno a Cosenza. Zero gol al passivo a fronte dei nove incassati nelle ultime tre partite della gestione Colantuono. Alla Rechi sei successi, due pareggi, un K.O. con la Brescia dell'ex Donnarumma, autore di una tripletta. Indisponibili di Gennaro, Gerre e Bernardini. Fuori per scelta tecnica Bellomo. Sistema di gioco 3-4-1-2, Micai tra i pali, Mantovani, Migliorini e Gigliotti, trio di centrali di difesa. L'ex Puccino è vitale sulle fasce, il francese ex Tolosa, ACPA, ACPRO e Di Tacchio nel cuore del reparto nevralgico. Sulla tre quarti Mazzarani, favorito sul brasiliano Anderson, alle spalle di Lamin Jallov e di Bocalon, probabilmente preferito a Dürich. Per contro Pillon sembra orientato ad apportare una o due modifiche rispetto all'undici che ha prevalso di misura sulla Venezia. Dubbio Ciofani-Balzano per la maglia di terzino destro. Melegoni invece prenderà il posto di Macin. Davanti conferma per Marras e Antonucci, entrambi agiranno a supporto di Leonardo Mancuso. Ancora panchina dunque per Monachello, che a gennaio potrebbe salutare i suoi compagni di squadra. Questo dunque il probabile undici. Fiorillo tre pali, Ciofani o Balzano, Gravillon, Scognamiglio e Delgrosso in difesa. Melegoni, Brugman e Memushai a centrocampo in attacco il tridente. Marras, Mancuso, Antonucci. Inizio ore 15, dirige Pilitteri di Palermo.